E salve a tutti ragazzi e benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video di Fortnite, mi raccomando un bel like e iscrivetevi anche al canale. Questo video, veramente, non c'è molto da dire perché il titolo e la miniatura parlano chiaro. Ho tirato delle laserate incredibili. Va bene che la vostra queen ha sempre tirato laserate assurde, ma questo game, ragazzi, c'è il panico. Sarà che ultimamente sto giocando praticamente solo ed esclusivamente arene e delle castle private per allenarmi, quindi sto perfezionando ancora di più il tutto. Non lo so, probabilmente sarà questo, ma ragazzi, laserate assurde durante l'endgame, in arena ovviamente, in duo. Non agitatevi quando le vedrete, mi raccomando, piuttosto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Anzi, se state vedendo la intro, mi raccomando, commentate con hashtag sei la nostra queen, così vi lascerò un cuoricino a tutti coloro che appunto commenteranno sotto il video. Quindi niente ragazzi, vi ricordo che mi trovate in live streaming su Twitch tutti i giorni per almeno 10-12 ore in live. Trovate il link qui sotto in descrizione e la stessa cosa vale per Instagram. Mentre se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite, potete farlo mettendo il mio codice creatore croatomist. Se lo farete, tanti bacini. Quindi ragazzi, adesso non perdiamoci in chiacchiere, buon video, buona visione e buone laserate. Puoi vedere come esce il gioco a viola questa volta? Eh sì, ma se esce è mio perché mi sono ottenuto i feriti di paperino. Va bene però va. Tu l'hai già? Sì. Ah, li vedi per caso? Sì. Vediamo ping. Ci sta anche uno con la macchina che corre. Alla mia sinistra c'è gente. Vai a piedi. Proviamo a laserarne uno, aspetta Marti. Rivedo comunque. Questo è free laser apile. Vieni, 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 vieni. Ci sei? Aspetta. Sì. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, vai. Ha filizzato, ha filizzato. Ha filizzato. No, no. Carantano mi testa, puccelo, puccelo. Poi chielo. C'è da te bianco? Questo qua. Eh, ho l'altro da me Marti. E io puccio l'altro, non posso stare con te. Vai, vai, arrivo da te. Ora arrivo. Morti mio. Sei nel chilling, Dani? Eh, diciamo. Devo bussare con te? Se riesci, sì. Tutto mi ha riflessato. Tutto mi ha riflessato. Tutto, tutto mi ha preso. Prima volta tu. Non male che sono tornati indietro, dai. Metto una bounce qua. Nel caso qua dentro c'era uno dei medikit, sono sicuro, aspetta. C'è, c'è, me li prendo. Li butto io? Vai. Genna sinistra. Siamo. Tu hai la gemma, non so quant'è. Arriva, arriva, arriva. Mi ha box. Eh, mi hanno gelato in due, cioè non posso farci niente. Uno gli ho fatto male, comunque. 44, te. Se riesci, curati, se riesci, curati. Dipende dalla card di stare, chiudati di me. Card? Prendi anche le cure. Vai, a te, va, a te, va. Potresti fare il colosseo. Vado qua, Marty, Marty, vado qua. In teoria non ci dovrebbe essere nessuno, cioè guarda dove la sei praticamente. Secondo me questi qua ti inseguono. Sì, ma questo qua è di un altro team, perché le tizie che mi hanno pusciato a me erano due tizie diverse, non erano la gold troupe. È uno, che faccio? No, è atterrato, è atterrato. Va bene, va bene, prova. Dai, non può raggiungermi con lì veloce, guarda dove è atterrato il suo tipo. No, la gold no. Tieni la R intanto, tieni i colpi. Ho visto qualcuno scendere dalla montagna. Ah, ci sono le botte, non mi metto lì. C'era uno dei mazzo, tieni. Qua, Marty. Sei Marty spinto gente. Ah, sta bruciando il suo box. Sì, sì, ho visto. 30 blu. Tocca ammassare i perfori. No, dobbiamo ammassare, sei pure fresh. Non so, non so, non so. Molta scelta purtroppo non c'è. 43. Arriva. No, no, io non sto pushando in il box. Morto, morto uno, morto uno, Marty. Sto bene da me. Arrivo. Settata due, sentata quattro. 46, bianco. Buon fine anno, Martina. Un abbraccio faccina che bacia. Che stima idea. Marty, guarda dove la sei. Guarda quanto ci dobbiamo muovere. Andiamo. Marty, andiamo a destra che stanno fightando lì con i potter. Eh, ma infatti, però sai cosa? In serio c'è la gente a sinistra o ricordo male io? Perdonami. Ma dove è uscito questo? Ah, è impulsato. Guarda, è stato venuto percibendo. Craccato, è bianco. Mamma mia. L'hai killato? Parca f***a, fratello. Arriva da te, arriva da te. Mamma mia. Ehi, bot, fratello. E ho visto che gli hai fatto, GG. Che io ho fatto? Questa sta lacrimando. Qua, Marty. Quando è così non stiamo insieme. Qua, dietro. 64. Mi ha riflessato. GG. Ok. Sì, sì, sì. Settato, mi sa. Settato, mi sa. Settato, settato. Settato il bianco. Arriva, arriva, arriva. Arriva. Morto. L'ho piccoloso. Allora, quanti raggi hai? 8, tieni. Ok, 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 ok. Marty, gente qua? Non è nulla nostra, aspetta. Vieni, vieni. L'ho riflessato. È da me. Eh, direi che tira il razzo. Da 115, 115. Aspetta, lo sto snitchando. Tutto il gioco di squadra. Edita, edge. Sì, io gli ho tirato un 88, tu il razzo, quindi è morto subito. L'ha preso proprio... Ah, questo qua. Prendo un attimo il cecchino delle Mandalorian. L'avevo messo qua, me lo ricordo. Vai, 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 vai. Mi sono rotte coi... Niente, abbiamo tutte le cure, Marty. C'era una dei big sopra, possibile? No, il big me lo sono fatto io. Ci sono le splash, comunque. Se non sono tu e ci sono le splash. Ok, prendo il cecchino sotto. Abbiamo la safe, siamo god. Cioè, siamo messi proprio god, Marty. Ci manca soltanto la safe. Abbiamo la safe, Marty. Dai, non l'ho preso. Sali, se vuoi, sali, sali, sali. Un team è lì, eh. Stanno andando a fightarsi a vicenda, lì, Marty. Sì, io mi prendo qua sopra. Sono proprio nel big chilling. Ma non avevamo... Eh, infatti, lì a sinistra. Sono quelli che mi hanno checkinato due volte. Ok. Ogni tanto si affaccia da quella finestrella lì, Marty, quello, eh. Eh, ma il cecchino l'ho buttato. Una non è stato. Aspetta. 23, 23, dopo 23. 24. 23, 23, crackato. 24 di nuovo. Uno che è sopra di noi. 23 blu. 23. 35. Guarda avanti, Marty, guarda avanti. La Recon. Le maschi bianco. Maschi bianco, 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 bianco. Morito, 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 te lo giuro. Morto. Ci c'è anche la Recon bianca, Marty. Tiro, ragazzo. Litto, litto. Morto. C'è un altro. È bianco, 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 bianco. Non ti raffreddo, se puoi sfreare per me. 35, crackato, bianco, bianco. Mamma mia, che sono una mira. Guarda avanti, guarda avanti, Marty. 32, 32. È bianco, Marty. Arrivo. 52, te 75, bianco. Ho vinto, vinto, vinto. 35 è blu. 75 è uno scato. Vai, li vuoi entrare con lì, ok? Vai, vai. Voilà! Mamma mia, raga, che mira. Che mira, raga. Che mira. Che mira, raga. GG, 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 GG. Qua ci vuole uno spam di GG in the chat. Anzi, questo ci vuole uno spam da canale, raga. Vi metto anche la chat. We need the spam da canale. Mamma mia. Che cavolo di mira, raga. Ho attivato l'einbot, scusatemi. Devo disattivarlo un secondo. Softame, softame. No, no, proprio l'einbot. Softame è troppo... Softame è per i poveri. Ah, ok, ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. GG, da canale, raga. Questa era da canale. Molto, molto bella. Molto, molto bella.